Salve amici del Centro Medio Italiano. Un nocciolo depressionario in quota accentua condizioni di instabilità diffusa su molte regioni italiane. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 6 agosto. Al mattino piogge o temporali sparsi lungo i settori costieri dell'Adriatico, bel tempo sul resto della penisola, salvo locali acquazioni tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio condizioni di maltempo a tratti intenso sull'Apenino Centro Meridionale, con fenomeni in estensione fin verso i rispettivi settori costieri. In serata e in nottata fenomeni temporaleschi ancora presenti sulle regioni meridionali, locali temporali possibili anche sui rilievi di Veneto e Trentino, mentre altrove è prevista prevalente stabilità. Le temperature minime e le massime sono previste in generale aumento da nord a sud. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.